Ciao a tutti, il 2020 non è ancora terminato ma in quanto a cattive sorprese continua effettivamente a sconvolgere abbastanza. Non so se lo sapete o se avete sentito ma lo scorso venerdì abbiamo perso quello che ritengo un regista veramente meritevole, cioè un maestro del cinema contemporaneo che che ne dicano gli altri, nonché il mio regista preferito in assoluto, più che altro perché lui a parte aver fatto, realizzato soprattutto all'apice della carriera dei lavori straordinari, è stato anche l'uomo che effettivamente ha acceso in me la passione per il cinema, mi ha consentito effettivamente di guardare quanto il cinema potesse essere una forma d'arte meravigliosa e io sono cresciuto con i suoi film e gli devo tantissimo e scoprire appunto che è scomparso è stata una doccia fredda, cioè una notizia abbastanza scioccante. Il regista in questione è Kim Ki-duk, il regista sudcoreano che appunto è scomparso all'età di 59 anni in seguito alla lotta con la malattia che ha sconvolto il mondo quest'anno ed è stata veramente una doccia fredda. E quindi ho pensato assolutamente di dedicare a lui un video anche per fornire qualche input sulla sua filmografia, nel caso non conosciate già i suoi film e vogliate appunto iniziare da qualche parte. Diciamo che Kim Ki-duk comunque negli ultimi anni della sua carriera aveva perso un po' lo smalto, cioè gli ultimi film che ha realizzato a prescindere da tutto sono effettivamente mediocri, secondo me. La vittoria del Leone d'Oro non gli ha fatto benissimo perché lui ha vinto il Leone d'Oro nel 2012 con Pietà che secondo me è l'ultimo suo bel film, effettivamente. In mezzo sì, c'era un film abbastanza riuscito come Il prigioniero coreano ma non abbastanza rispetto ai suoi fasti del passato. Quindi diciamo che la critica l'aveva un po' abbandonato e anche i suoi seguaci più stretti l'hanno abbandonato. Io l'ho difeso, spalatratta fino alla fine anche se, come avevo fatto un video apposito l'ultimissima opera di Kim Ki-duk disponibile perché in realtà ha realizzato un altro film che tuttora non si trova che è Dissolve, uscito nel 2019 ma l'ultimo film effettivamente disponibile Human Space Time and Human, credo che si chiami veramente era forse il punto più basso della sua carriera. Però nonostante quello, diciamo che anche nei suoi film non riusciti Kim Ki-duk ha sempre dimostrato di avere la sua visione di avere la sua poetica, il suo modo di guardare il mondo e rappresentare le cose che obiettivamente lo rende unico. Diciamo che secondo me l'ha aiutato molto il fatto che Kim Ki-duk in realtà non ha una formazione da regista, da cineasta di cinema conosce poco almeno così era agli inizi c'è un libro molto bello che vi consiglio di Andrea Bellavita, se non ricordo male uscito per la collana Castoro Cinema che è proprio una monografia dedicata a Kim Ki-duk dove si racconta bene il background della sua storia e del suo cinema lui sostanzialmente era un pittore di strada quindi partito proprio dal basso tentando anche una fuga a Parigi vivendo anche in condizioni piuttosto lontane dai comfort quindi lui parte veramente dal basso e pian piano la sua passione per la pittura lo porta effettivamente a mettere in scena le immagini dal punto di vista cinematografico c'è quindi una traduzione di mezzo che nasce appunto semplicemente dalla passione per l'immagine di Kim Ki-duk e non tanto da una formazione tecnica nonostante appunto Kim Ki-duk nei suoi film faccia tutto dirige, scrive la sceneggiatura produce i suoi film e quindi possiamo dire che i suoi film sono opere libere se vogliamo ed è interessante notare come ed è forse anche il motivo per cui ad alcuni il suo cinema non piace è interessante notare come Kim Ki-duk lavori per simboli quindi non molto spesso all'interno dei suoi film non segue la coerenza logica perché i simboli sono più importanti per trasmettere i messaggi che vuole mandare a volte questo approccio viene visto come pretenzioso soprattutto quando ci sono delle simbologie in particolar modo le stagioni il tempo il flusso del tempo e il ciclo delle stagioni che sono uno dei suoi punti cardine della sua poetica quando ritornano così tanto ciclicamente possono essere visti quasi come un continuo rimando sulle stesse idee ma secondo me c'è innanzitutto grande passione alla base e soprattutto un discorso più logico di quel che sembra quello che vi consiglio nel caso in cui non conosciate il suo cinema è di abbandonare l'idea di dover trovare per forza una spiegazione a tutto e di leggere il film da un punto di vista diverso ma questo spero di raccontarvelo meglio presentandovi un po' i film che vi consiglierò oggi allora Kim Ki-Dook ha avuto una carriera molto prolifica lui ha fatto praticamente dal 1996 anno di uscita del suo primo film che ho qui che è Crocodile un film all'anno praticamente allora diciamo che i suoi primi film sono molto grezzi Crocodile ad esempio ho visto oggi obiettivamente pur essendo un film straordinario secondo me è invecchiato male ma è invecchiato in modo affascinante cioè lo vedi che è un film di altri tempi dove si unisce la crudezza perché la violenza la crudezza il lato ferino dell'essere umano è una parte è una sfera che Kim Ki-Dook ha sviluppato bene nei primissimi film con storie proprio ai margini e in particolar modo Crocodile è uno di questi ma già nel primo film diciamo che instilla immagini visionarie che renderanno grande il suo cinema più poetico quello degli anni degli anni dove sfornava un capolavoro ogni tre mesi praticamente ad esempio in Crocodile c'è la bellissima immagine finale dei due amanti sott'acqua seduti su questa panchina ammanettati straordinario è proprio una rappresentazione poetica dell'unione tra amore e morte che è molto forte ci sono dei film del primo periodo che sono altrettanto interessanti ad esempio Bird K. Jean che è un film stranissimo è una sorta di dramma familiare ai margini anche in questo caso molto crudo con dei tocchi anche inaspettati di commedia nera che è raro trovare nel suo cinema lo si ritroverà soprattutto nelle ultime opere però Bird K. Jean è veramente un film peculiare perché riesce ad unire la delicatezza con una certa crudezza ma anche con un piccolo tocco di umorismo nero ci sono altri film del primo periodo che invece sono un po' più pallidi ma allo stesso tempo dimostrano veramente a volte la bizzarria visiva del regista ad esempio Wild Animals del 1997 pur essendo uno dei suoi film meno riusciti ha comunque queste idee fuori dalle righe ad esempio il fatto che venga utilizzata all'interno del film un pesce surgelato come arma effettivamente per uccidere quindi anche la simbologia di determinati animali in realtà è piuttosto ricorrente per ora sto già divagando troppo se voi non conoscete Kinky Duke da dove dovete partire? allora probabilmente non tutti saranno d'accordo con me ma secondo me il miglior film da cui partire è assolutamente Ferro 3 la casa vuota che io ritengo essere uno dei film più belli mai fatti nella storia del cinema probabilmente c'è anche tantissima sfera emotiva perché quando l'ho visto a 12 anni veramente mi aveva emozionato e lasciato a bocca aperta è un film molto delicato che però ha anche qui questi slanci simbolici tipici del cinema di Kinky Duke diciamo che la storia di Ferro 3 la casa vuota è obiettivamente inverosimile ma Kinky Duke ve l'ho detto se ne frega della verosomiglianza non è interessante nel suo cinema è un cinema che lavora di simboli e se voi riuscite ad accettare il suo linguaggio veramente saprà colpirvi dentro io questo film l'ho visto a 12 anni preso casualmente al blockbuster e ne ero rimasto incantato di cosa parla Ferro 3 la casa vuota ve ne ho parlato tanto sul canale è il racconto di questo ragazzo che viaggia a bordo della sua BMW una moto in realtà non una macchina e di lavoro lui attacca i volantini dei ristoranti alle porte alle porte delle case la sera lui rifà lo stesso giro che ha fatto per lavoro e controlla quali case hanno ancora il volantino appicciccato alla porta in questo modo lui sa che quelle case che hanno ancora il volantino sono vuote e quindi lui si introduce in queste case forza proprio la serratura e ci vive per una notte e per la mattina seguente e attenzione non è un ladro ci vive effettivamente come se fosse casa sua è un uomo senza casa che diciamo vive nelle case altrui e quindi fa una cosa fa cose incredibili si mette a stirare si mette a riparare gli oggetti rotti si mette a lavare e pulisce e stira cioè è veramente incredibile cioè in Italia se qualcuno ti entra in casa ti rubano tutto in Corea evidentemente ti fanno i mestieri non lo so io la prima cosa che ho pensato è questa però mi aveva fatto molto ridere però in realtà anche qua è simbolica come cosa è un ragazzo senza casa probabilmente senza neanche identità perché non parla non lo sentiamo mai parlare e non ha un nome durante uno di questi viaggi all'interno delle case vuote lui incontra una donna una donna che in realtà è presente in casa anche lei completamente ridotta al silenzio in realtà lei appunto non parla non si esprime più proprio perché è vittima di un marito molesto che la picchia abusivo e appunto è una donna molto ricca che però vive all'interno di questa grande villa completamente in preda al terrore e al fatto che il marito costantemente abusa di lei quindi diciamo che lui la porta con sé decide di salvarla e partiranno appunto per questo tour delle case vuote assieme e pian piano appunto si instaura una relazione d'amore tra loro basata sul silenzio perché entrambi i personaggi non parlano che sfocerà e di più non vi dico altrimenti faccio spoiler anche se non è un thriller sfocerà però in una problematica che dovranno risolvere che sconvolgerà le loro vite in una delle case infatti trovano un cadavere e quindi si trovano in un inghippo cosa fare cosa devono fare ok questo è un po' il succo della questione fatto sta che è un film straordinario è un film straordinario con delle scene che sono entrate anche nell'immaginario poetico del cinema pensiamo ad esempio al bellissimo c'è una scena da prividi con questo gioco movimenti del corpo degli sguardi in cui ci sono marito e moglie davanti uno davanti all'altro e lei dice ti amo però il marito non si accorge che dietro di lui c'è c'è il ragazzo effettivamente di cui lei è innamorata il marito preso bene emozionato dal fatto che la moglie abbia per la prima volta parlato dopo tanto tempo l'abbraccia e in realtà arriva il ragazzo che sa che quel ti amo era rivolto a lui e da sopra la spalla del marito lei si protende per baciarlo baciare il ragazzo mentre lui è appunto posto dietro il marito completamente invisibile e silenzioso allora di più non vi voglio rivelare ma ci sarebbe anche l'iconica immagine della bilancia che pesa zero banalmente è pura poesia questo film molti l'hanno definito un film quasi muto nel senso che non si parla in realtà non è così secondo me si parla troppo in modo positivo ovviamente lo dico e lo dico per il fatto che in realtà a stridere tanto sul fatto che ci siano pochi dialoghi è che i protagonisti non parlano ma tutte le scelte tutti i personaggi di contorno e personaggi secondari sono ai limiti della logorrea e questo è voluto proprio per dare un ritratto più non lo so più incomprensibile in realtà degli esseri umani di contorno quelli che dovrebbero parlare non parlano o non hanno bisogno di parlare perché parlano con il silenzio è potentissimo e parlando appunto di altri film sono di ferro 3 potrei stare ore un altro film che vi consiglio e che tra l'altro se non erro è anche disponibile su Amazon Prime Video che è l'altro mio preferito di Kim Ki-Duck ed ha un approccio molto diverso rispetto a Ferro 3 è assolutamente L'Isola L'Isola è un film del 2000 che è diciamo molto crudo è forse uno dei più feroci di Kim Ki-Duck nonostante abbia tentato di tornare negli ultimi film come Mabius banalmente o Human Space Time and Human ha quelle tematiche lì di violenza sopraffazione anche Pietà un po' ritorna in quell'universo lì ma L'Isola secondo me è quello più feroce anche perché la violenza entra costantemente in contatto con la bellezza con la poesia è un film che riesce effettivamente a far concidere questi due mondi in modo incredibile con questa banalmente è questa scenografia fenomenale di queste case galleggianti colorate in questo lago dominato dalla nebbia c'è questo questo paesaggio che richiama quasi un mondo sovrannaturale occulto con queste casine tutte che galleggiano in questo lago dominato dalla nebbia tutto il film ha questi toni bluastri ed è effettivamente il racconto di quest'uomo che dopo aver commesso un omicidio per scappare dalle proprie responsabilità si finge un pescatore ed effettivamente affitta una di queste case per nascondersi la proprietaria di questo molo di questa baia per pescatori è una donna anche questa senza nome che è senza voce perché non parlerà mai nel corso di tutto il film è la donna con cui lui instaurerà una relazione diciamo abbastanza borderline soprattutto perché è basata anche sul linguaggio della violenza non parlando con la voce diventa tutto un rapporto basato sul potere ma anche sul potere del corpo e lei è un personaggio meraviglioso perché lei è super enigmatica sembra quasi una strega del mare è fantastica è un film molto crudo anche questo che questo è crudo ferro 3 no però questo sì tosto con delle scene di violenza non da poco però appunto con questa poesia costantemente presente per tutto il minutaggio ed è veramente favoloso con un finale da pelle d'occa secondo me altro film questo è molto criticato tanto criticato dalla critica in negativo io l'ho adorato invece quindi ve lo consiglio è Time Time è un film secondo me molto bello in realtà che non è stato capito rispetto ad altri film di Kim Ki-Dook qua il silenzio non c'è Kim Ki-Dook per esplorare l'incomunicabilità del linguaggio sceglie una strada totalmente diversa quindi fa parlare troppo i suoi personaggi al limite dello stridere dell'urlarsi addosso ma i dialoghi che mette in bocca loro sono sempre vuoti totalmente vuoti tanto che sembrano uscire da una delle peggiori sopopera per dire ti sei stancato di me e bbb e bbb si urlano sempre addosso una cosa incredibile anche perché comunque Kim Ki-Dook mette in scena una società molto superficiale basata anche sull'agio banalmente sulla noia ed è un'altra esplorazione dell'incomunicabilità che fa qui dentro secondo me la trama già di per sé è geniale come la sviluppa la sviluppa in modo da far collassare il tempo lineare e renderlo ciclico vabbè geniale non sto qua troppo dirvi però lui sostanzialmente Kim Ki-Dook riprende uno dei trend più pericolosi ancora del sud più diffusi in assoluto ovvero la chirurgia estetica che viene usata proprio come se fosse come se fosse caramelle e effettivamente il racconto è quello di questa coppia di giovani belli ricchi hipster sudcoreani lei è convinta che dopo tanti anni di relazione lui si è stancato di lei per il fatto che lei abbia sempre lo stesso aspetto e nonostante lui la conforti sul fatto che non è così lei si ossessiona con quest'idea ed è pronta a fare una soluzione estrema ovvero cambiarsi totalmente il volto cambiare identità e cercare di riconquistarlo come se fosse una ragazza diversa con l'aggravante però che finirà per ingelosirsi di se stessa perché lui si sta innamorando di un'altra donna anche se è sempre lei quindi è un film che nasce da un paradosso anche questo e che io trovo veramente geniale anche qui ci sono tantissimi simboli chiave del cinema di Kim Ki-duk che mettono in scena questo psicodramma che io trovo molto più interessante di quello che vogliono farvi credere quindi io ve lo straconsiglio poi vabbè il film che viene molto spesso strombazzato come uno dei migliori ed effettivamente è così è primavera estate autunno inverno è ancora primavera un film estremamente pittorico questo è il film più estetico di Kim Ki-duk diciamo che è un film anche forse il più delicato che ha fatto è un film privo di violenza privo di cioè molto nonostante il tema del delitto della colpa sia presente anche il tema dell'eros è presente è un film che sembra vivere in una dimensione propria è infatti una un film totalmente basato sulla filosofia buddista e soprattutto sulla ciclicità delle stagioni viste in relazione con la crescita di un essere umano e anche con il tema dell'espiazione che è un tema fondamentale qui dentro film bellissimo c'è da consigliarvi anche un altro film che amo particolarmente che è La Samaritana La Samaritana è anche qua un film basato sui simboli dove non è neanche così chiaro se alcuni personaggi siano reali o frutto di immaginazione per proprio i loro comportamenti è un po' la domanda che ti fai anche guardando Ferro 3 questo ragazzo sulla moto è reale o è immaginato dalla protagonista femminile soprattutto quando noi capiamo sempre più che lui non ha un corpo effettivo vi sto già rivelando troppo nella Samaritana succede più o meno lo stesso con una delle due protagoniste la storia parla appunto di queste due ragazze che per fare soldi facili decidono di vendere il loro corpo diciamo che è una storia che parte quasi per gioco e pian piano si tinge di dramma ma non è una storia sulla prostituzione minorile è una storia in realtà basata su un rapporto sul rapporto reso complicato tra padre e figlia perché il padre della protagonista principale è un poliziotto e quando inizia a sospettare che la figlia si sta prostituendo inizia pian piano ad attuare il suo piano di vendetta contro i clienti che la ragazza sta frequentando e quindi anche qui Kinky Duke si interroga sull'effettiva sull'effettivo senso della vendetta che è un tema ricorrentissimo all'interno del cinema coreano ma anche sul tema della colpa che è un altro grande tema del cinema di Kinky Duke ma anche sul tema dell'ambiguità della realtà l'amica della protagonista non è così chiaro se esista o meno almeno io l'ho percepita così guardando il film soprattutto quando nel modo assurdo in cui lei scompare di scena non vi rivelo come ma c'è questa scena che secondo me ha un'enorme carica simbolica in cui lei effettivamente si toglie di mezzo questa amica questa amica che sembra quasi effettuare un incantesimo un sortilegio sulla protagonista semplicemente con uno sguardo ecco il cinema di Kinky Duke vi dicevo lavora molto con simboli e con cose che potrebbero assolutamente non riguardare la realtà ma potrebbero significare altro diciamo che vi ho dato tanti stimoli già ho parlato troppo ma ci sarebbero tanti altri film da citare Bad Guy Address Unknown The Coast Guard a me è piaciuto molto anche Soffio nonostante sia definito anche qui uno dei suoi film minori solitamente la critica vi consiglierò sempre primavera è stata autunno inverno ancora primavera Ferro 3 Bad Guy sono un po' questi i film che vengono reputati i migliori io vi consiglio di partire da Ferro 3 la casa vuota successivamente per conoscere anche un po' il Kinky Duke più crudo e truce passate l'Isola che è un film straordinario e poi potete riprendere un po' i fasti primavera è stata autunno inverno la Samaritana l'Arco che è molto bello nonostante sia super simbolico Time Soffio se invece amate di più l'approccio truce di Kim Ki-Duke quando Kim Ki-Duke viaggia sull'estremo allora andate nella prima fase della carriera di Kim Ki-Duke quindi Bad Guy sarebbe un ottimo step 3 dopo l'Isola Address Unknown Burkai Jean e c'è un film poi che ve lo cito per ultimo che è una riflessione sul cinema realmente interessante anche perché è un film che potremmo definire sperimentale molto strambo all'interno della carriera di Kim Ki-Duke che però riflette ancora un po' il conflitto tra ciò che è vero e ciò che è non vero che attraverso l'uso del simbolo che è effettivamente un modo di lavorazione di Kim Ki-Duke all'interno del suo cinema ed è un film stranissimo del 2000 che si chiama Real Fiction questo pur amandolo molto ve lo farei vedere come ultimo quando li avete finiti tutti concedetevi questo film che spicca per stramberia all'interno della filmografia del regista però merita perché mostra quanto in realtà il suo modo di guardare il mondo sia sfaccettato ci sono dei film invece che non vi consiglierei perché li ritengo molto sottotono però ad alcuni sono piaciuti quindi vedete voi Mabius innanzitutto che però tra i film meno riusciti di Kim Ki-Duke in realtà il più interessante secondo me è Try Too Hard è un film dove lui ci ha provato troppo voleva essere provocatorio scioccante con peni che vengono recisi peni che vengono rubati non sto scherzando è di cattivo gusto è pure exploitation però è più interessante rispetto a One on One che è di una retorica allucinante un film proprio sbagliato secondo me goffo e peggio ancora il suo peggiore secondo me Human Space Time and Human quello da evitare assolutamente una parodia del cinema di Kim Ki-Duke realizzata da Kim Ki-Duke stesso ecco questi tre li eviterei se siete curiosi giusto Mabius è quello più interessante gli altri due ok proprio per ultimissimi se siete super mega se vi scoprite super mega fan ma niente io ho parlato troppo spero di avervi un po' estillato un minimo di curiosità sul cinema di Kim Ki-Duke appunto un regista che per me è importantissimo dal punto di vista personale ma secondo me è un regista che merita di essere riscoperto nonostante ci siano sempre questi snobboni che dicano che il suo cinema non è così speciale per me lo è fatemi sapere se avete visto qualche suo film già se vi ho incuriosito forse questo ne ho parlato in modo troppo cerebrale però spero di no spero di aver venne parlato un po' così alla buona in modo che possiate voi stessi scoprirlo perché sperando che appunto accenda la passione per il cinema così come l'ha accesa in me in passato quindi fatemi sapere appunto che cosa guarderete vi piace kinky duck non vi piace che ne pensate io insomma vi saluto vi aspetto al prossimo video vi mando un bacione ciao ciao ciao